Ben trovati e bentrovate da Andrea Cartotto. Nuovo videocorso in cui propongo a tutti i colleghi e le colleghe della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e anche a voi alunni ed alunne, la possibilità di mettersi alla prova con la geografia. Basta un qualsiasi dispositivo, anche mobile, quindi dallo smartphone al tablet per passare poi attraverso il Chromebook, il notebook o un personal computer fisso. Eccoci su sito di riferimento giochi-geografici.com Basta un qualsiasi browser programma di navigazione. La pagina web è semplice e pulita come la stiamo vedendo. Abbiamo tre categorie in alto a destra su cui cliccare e tra cui scegliere per avere come possiamo osservare i giochi interattivi relativi all'Italia o all'Europa o al mondo. Se vado a scorrere la pagina verso il basso, ecco ad esempio Città d'Europa anche qui. Facciamo un clic e vediamo che cosa ci viene proposto. Si tratta di una applicazione web, quindi siamo online per svolgere la nostra attività. Siamo anche nel cosiddetto ambito della gamification, cioè dell'apprendimento in chiave ludica, in chiave di gioco. Ed eccoci dunque con la possibilità di cliccare schermo intero o toccare schermo intero direttamente qui all'interno della nostra risorsa, clicchiamo su giocare e vediamo i quesiti. Dobbiamo trovare Utrecht nei Paesi Bassi. Naturalmente sto cliccando dove non devo e come possiamo vedere, vado ancora adesso a selezionare una ulteriore risorsa errata, vedete che abbiamo la possibilità di riscontrare su una cartina muta la nostra località. Qui abbiamo Bari, che mi perdonino, perdonatemi perché ho portato Bari al nord per farvi vedere che viene anche calcolata la distanza tra punto errato e punto corretto, ma soprattutto che abbiamo il riscontro circa la correttezza della nostra risposta e una barra a destra verde che va ad indicare il tempo che abbiamo impiegato, in questo caso perduto, per dare la nostra risposta. Per ritornare allo schermo più piccolo è sufficiente, sarà sufficiente premere il tasto ESC sulla nostra tastiera se siamo sul computer o ricondurre a schermo più piccolo, semplicemente scorrendo con il dito proprio sullo schermo dei nostri dispositivi immobili. Un gioco quindi che ci permette di metterci alla prova, osservando anche l'errore per poi così imparare rafforzando anche la memoria visiva. Lascio a voi la prova su strada, divertiamoci, divertitevi con giochi-geografici.com Vi do sin d'ora appuntamento al prossimo videocorso e ancora un saluto a tutti e a tutte dal vostro Andrea Cartotto.